Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0 L'11 marzo 2011, poco prima delle 15 ore locale, un forte terremoto ha colpito la costa del Giappone. Con una magnitudo di 9. Ed è stato il più potente terremoto mai registrato in Giappone e il quarto più grande al mondo nella storia registrata. Il grande terremoto con epicentro a 70 km dalle zone costiere ha scatenato un gigantesco tsunami che ha causato la morte di oltre 19.000 persone. Onde enormi che hanno raggiunto 40 metri e con una velocità di 700 km orari che hanno colpito la costa e sono penetrate fino a 10 km nell'entroterra distruggendo tutto sul loro cammino. Le persone avevano solo pochi minuti per fuggire dalle loro case e prendere i loro averi e, orribilmente, più di 100 siti di evacuazione furono rasi al suolo. Molti sono annegati, ma altre migliaia sono stati uccisi da una forza contundente quando alberi, veicoli ed edifici sono stati abbattuti dal terribile potere dello tsunami. Più di 120.000 edifici sono stati distrutti e quasi 300.000 hanno subito un crollo parziale a causa dell'estrema forza della natura. Le strade sono state devastate insieme alle linee ferroviarie e milioni di case erano senza elettricità o acqua. Lo tsunami ha anche causato una catastrofe alla centrale nucleare di Fukushima. Una gran parte dell'area circostante è ancora inabitabile. Dopo la devastazione dello tsunami più di 340.000 persone sono rimaste senza casa e le aree colpite hanno sofferto di carenza di cibo, acqua, medicina e carburante. Tonnellate di detriti si sono accumulate intorno alle città costiere colpite dallo tsunami e si stima che più di un milione di tonnellate rimangono ancora nell'oceano Pacifico. E quando sono iniziate le operazioni di pulizia le persone hanno iniziato a tornare lentamente alle loro case affrontando un altro incubo. Dove prima c'erano le case dei loro vicini, degli amici e dei cari ora non c'era altro che rovine e vite perdute. La gente ha dovuto cercare di ricostruire la propria vita dalle macerie. Tra l'angoscia mentale di tornare ai luoghi familiari dove una volta erano stati felici molti riferivano che stavano accadendo cose strane. Si potevano sentire dal risveglio notturno a rumori o sensazioni insolite, a strane presenze mentre cercavano di tornare alla loro vita quotidiana nella comunità distrutta che era stata spazzata via dallo tsunami. Sembrava esserci una sola spiegazione le apparizioni dei fantasmi di coloro che avevano perso la vita in quel terribile giorno di marzo. Alcuni hanno persino riferito di aver visto file di figure spettrali che aspettavano pazientemente tra le macerie che in precedenza erano state in un supermercato. Per Shiniki Yamada, padre di due figli, il terrificante fenomeno che seguì lo tsunami era molto reale mentre lui e i suoi figli cercavano di ricostruire le loro vite. Era fuggita alle onde che avevano distrutto la sua casa e in seguito aveva salvato due statue buddiste dalle macerie. Ma quando iniziò la sua nuova vita disse che cominciarono a verificarsi strani fenomeni. Ha rivelato che entrambi i suoi figli si sono ammalati improvvisamente e un freddo inspiegabile sembrava seguire la famiglia per tutta la casa. Un paio di volte, mentre ero sdraiato sul letto, ho sentito qualcosa attraversarmi, attraversarmi il petto, ha detto Yamada. Il padre, preoccupato, insieme a molti altri sopravvissuti allo tsunami, sentiva che c'era un solo posto in cui poteva chiedere aiuto, un esorcista. Yakashio Aizawa ha aiutato innumerevoli famiglie ad affrontare i fantasmi dopo lo tsunami e dice di aver visto molte apparizioni lei stessa. «Ci sono fantasmi senza testa e alcuni mancano di mani o gambe, altri sono completamente tagliati a metà», ha spiegato Aizawa in un episodio del programma televisivo misteri risolti andato in onda lo scorso anno. «Le persone sono morte in molti modi diversi durante il disastro ed erano quindi nel limbo. Quindi li vediamo come erano quando sono morti». Il problema delle visioni di figure spettrali divenne così serio in alcune zone che i tassisti temevano che i loro clienti fossero spettri piuttosto che passeggeri vivi. All'indomani della tragedia le persone hanno cercato l'aiuto dell'esorcista per assicurarsi che i loro cari fossero felici nell'aldilà ma la situazione è cambiata nel tempo. All'inizio le persone venivano qui volendo trovare i corpi dei loro parenti ha continuato a spiegare Aizawa. Allora volevano sapere esattamente come era morta quella persona o se il suo spirito era in pace. Hanno cominciato a voler trasmettere i propri messaggi ai morti. Pre Yamada i suoi guai finirono quando costruì un santuario per le due statue buddiste. Le persone sono ancora convinte che ci siano ancora fantasmi ma ora credono che attraverso le loro azioni amorevoli i loro spiriti siano finalmente in pace. Tuttavia non tutti sono convinti che queste apparizioni siano di origine spirituale. Keizo Ara psichiata della città Ishinomaki una delle zone più colpite dello tsunami ha spiegato che i luoghi in cui le persone dicono di vedere i fantasmi sono in gran parte quelle aree completamente spazzate via dallo tsunami. Una spiegazione era che coloro che avevano assistito alla distruzione potevano soffrire di un disturbo post-traumatico. Crediamo che fenomeni come gli avvistamenti di fantasmi siano forse una proiezione mentale del terrore e delle preoccupazioni associate a quei luoghi ha detto Yara ci vorrà del tempo perché il disturbo da stress post-traumatico emerga per molte persone in alloggi temporanei e per le quali nulla è cambiato dal terremoto. Che siano veri fantasmi o frutto di stress post-traumatico sono passati dieci anni da quel disastro catastrofico. Ora in un giardino adagiato su una piccola collina sotto i grandi rami di un ciliegio una cabina telefonica bianca risplende nella luce dell'inizio della primavera. I sopravvissuti al disastro di Fukushima nel 2011 affermano che la linea telefonica scollegata li aiuta a rimanere in contatto con coloro che hanno perso. Katsushi Sasaki visita la capanna nella città di Otsuki per parlare con la sua defunta moglie. Era una delle quasi 20.000 persone che morirono nel terremoto e nel successivo tsunami. componendo il suo numero di cellulare ora scomparso scoppia in lacrime mentre spiega come l'ha cercata per giorni dopo il disastro. Continua ad aggiornarla su cose che sono successe nella sua vita. È uscito da un alloggio temporaneo suo figlio le sta costruendo una casa e lui ha perso un po' di peso. Per Sasaki la cabina telefonica è la comunicazione diretta con sua moglie. Sachiko Okawa usa il telefono per chiamare il suo defunto marito con cui è stata sposata per 44 anni. Gli chiede cosa ha fatto da quando è stata spazzata via tanti anni fa dallo tsunami. A volte porta i suoi due nipoti in modo che possono parlare anche con suo nonno. Il telefono dell'aldilà attira oramai migliaia di visitatori da tutto il Giappone. Non viene utilizzato solo dai sopravvissuti allo tsunami ma anche da persone che hanno perso i familiari per la malattia o il suicidio. Conosciuto come il Wide Telephone è stato costruito da Itaru Sasaki che lo ha creato dopo aver perso suo cugino a causa di un cancro un anno prima del disastro di Fukushima. Ci sono anche molti che affermano di aver ascoltato i loro cari defunti su un'altra linea. Beh, una storia molto strana e anche commovente. Io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al canale vi ricordo sempre i like e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti.